Non voglio divulgarmi in interventi magari nevagogici sulla questione che è molto delicata e invece la seconda diciamo come del territorio per quanto riguarda appunto il numero degli addetti. Quindi è una crisi gravissima e che i colleghi hanno già ben sottregnato e dal resto anche il sindaco. Mi permetto di fare una semplice domanda al sindaco che è andato all'incontro di Zoccola se questo tipo di ordine del giorno era stato comportato. Immagino che anche negli altri consigli venga proposto e approvato un analogo ordine del giorno. Quindi mi parerebbe che noi non dobbiamo mai fare i primi della classe ma fare il nostro e credo che nel primo coma dell'impegno è chiaro l'impegno del comune. Per gli altri livelli ovviamente ci sono anche quelli. Mi pare che forse sia banale dire che la regione sia interessata e il governo avrà questo incontro il 5 dicembre. Però se questo è utile per un'approvazione ma mi pare che, almeno questa è la mia domanda, credo che se viene approvato in questi termini e in altri consigli mi parrebbe che noi non è che dobbiamo fare qualcosa di più o fare i primi della classe. Mi pare questa un po' una cosa che va al di là e soprattutto non risponde all'esigenza di questa trasversalità e questo impegno comune a trovare delle soluzioni per una crisi così grande. Grazie.